Ciao a tutti ragazzi sono sempre io Paolo Spalz dello 7 volevo informarvi che sabato sera alle 9 e mezza saremo in live nella trasmissione oltre al novantesimo io e altri 5 ospiti parleremo di serie A, parleremo di Spalz soprattutto parleremo di serie B, parleremo di nazionale e vi ricordo che con la chat live di Youtube potrete mandarvi le vostre domande a cui noi risponderemo sarà una serata bellissima all'insieme del dialogo dello sport e vi aspetto sabato sera, mi raccomando non mancate ci vediamo sabato sera